La paura, quella che non ha in realtà mai abbandonato la struttura, gli ospiti ed il personale della casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno, ritorna a serpeggiare. È stata di fatto ufficializzata quest'oggi con un comunicato a firma del presidente della Fondazione Italo Rizzi la notizia di un altro caso di contagio riscontrato su di un ospite della struttura Nucleo Alzheimer sottoposto a tampone al lato del ricovero. Debolmente positivo definisce il comunicato lo stato di salute dell'anziano paziente ricoverato il primo di agosto. Immediatamente messe in atto le procedure interne previste dal piano organizzativo e gestionale e in via precauzionale disposto l'esame del tampone per tutti i degenti, 15 ospiti ed il personale del Nucleo Alzheimer composto da 25 operatori venuto a contatto con gli ospiti. I test iniziati quest'oggi si concluderanno nella giornata di giovedì e saranno comunque ripetuti nell'arco delle prossime settimane. Nel comunicato si legge l'ospite risultato debolmente positivo al tampone eseguito dalla struttura ospedaliera era stato precedentemente sottoposto a test sierologico e doppio tampone a cura della fondazione risultando negativo ai due tamponi eseguiti. Al momento non si rileva alcuna sintomatologia sospetta a carico sia degli ospiti che degli operatori. visite interrotte per i parenti dei pazienti del Nucleo Alzheimer.